Obiettivo diffondere la cultura del dono, anzi il verbo giusto dicono dall'associazione Orizzonti che da oltre dieci anni è in prima linea contro la povertà economica e sanitaria è alimentare. E alimentare è anche la raccolta nei supermercati del gruppo Megamark, significa che qui è possibile lasciare uno o più prodotti non deperibili acquistati a beneficio di chi la spesa non riesce neanche a farla. Dall'analisi della Col di Retti sui dati del rapporto del Fondo per l'aiuto europeo agli indigenti diffusi in occasione della giornata mondiale dei poveri istituita da Papa Francesco sono quasi 3 milioni gli italiani costretti a chiedere aiuti per mangiare facendo ricorso alle menze o ai pacchi alimentari. Da Trani emerge anche un altro dato che fa riflettere. La fascia più debole diciamo della società da zero a sei anni e abbiamo con dati certi i stat riscontrato che nonostante c'è un calo demografico della crescita in quella fascia d'età abbiamo un aumento della povertà e quindi è una fascia che va assolutamente tutelata sia dal punto di vista alimentare e non solo. Causa emergenza sanitaria era ferma da due anni la raccolta alimentare nei supermercati da orizzonti spiegano che la loro attività per i poveri non si è mai fermata. Le famiglie hanno bisogno quotidianamente di alimenti e non solo. Noi non ci siamo neanche mai fermati perché abbiamo lasciato un carrello solidale, non eravamo in presenza ma non abbiamo mai abbandonato questa strada.